Prevedi anche tu di mangiare più del solito durante il periodo delle feste? Fra cene, panettoni a colazione, voglia di festa, mangiare in eccesso è fin troppo facile. Sì, ma io starò a digiuno tutto il giorno per potermi abbuffare al cenone. Così non farai altro che squilibrare il metabolismo, la glicemia e farti venire mal di stomaco. Ecco 5 cose da fare per restare in anche con qualche sgarro. Così durante le feste non perderete né la bussola né la linea. 1. Mangia smart nei giorni normali. Invece di abbuffarti e poi stare a digiuno, durante le feste fai pasti piccoli ma frequenti, con cibi leggeri e soprattutto a orari irregolari. Fai attenzione di avere digerito bene lo spuntino precedente prima di passare al successivo. 2. Mantieni gli allenamenti. Il giorno di Natale o Santo Stefano avresti dovuto fare il tuo allenamento? Va bene non andare in palestra ma almeno allenati a casa. Il movimento aiuta a bruciare le calorie dei pasti in eccesso, mantiene alto il metabolismo e ci dà la carica per tutta la giornata. 3. Ricordati di bere acqua. Lo avete notato anche voi? Durante le feste sulla tavola si tende a ridurre l'acqua e aumentare le bibite e l'alcol. Tra l'altro con gli snack o i pasti troppo salati o saporiti c'è il rischio di aumentare la ritenzione idrica. Quindi brindisi a parte ricordati di bere tanta acqua e anche tisane sgonfianti come quella al finocchio. 4. Riposati di più. Nel periodo natalizio i festeggiamenti e le nottate si susseguono una dopo l'altra? Cerca comunque di dormire almeno 8 ore per notte. Se non ce la fai ritagliati un piccolo riposino durante il giorno. L'eccesso di vita frenetica può causare un aumento del cortisolo, l'ormone dello stress. Quindi approfitta del periodo per dormire qualche ora in più. Non stai perdendo tempo ma guadagnando salute. 5. Passeggia e respira. Ho detto riposare di più, non poltrire tutto il giorno sul divano. Mangiare troppo e fare poco movimento fa solo ingrassare. Prima che venga buio macina qualche chilometro al mattino o nel primo pomeriggio e respira bene. Farà bene alla linea e all'umore. Le feste quest'anno cerchiamo di renderle ancora più trendy e sane. Se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!